Buongiorno, buongiorno non cazzo, ma perché? Perché non gli affanculo, prima c'è per meglio me, oggi cambio location perché San Michele, il padrone di Bastia Umbra, vanno sfrattati, ma lo rispettiamo la festa, è vero, onorano le feste, e onorano anche il Scincillano. E onorano anche San Scrocchella Martire, fermo, Arsuga Robinson, adesso vado alla nonna perché dopo me se la portavo su un posto. L'allenamento veramente top, quindi noi vi aspettiamo qua al Thunder, io Alessandro contro tutti, scrivete o Alessandro o al Thunder per sfide, ecco qua, o al limite possiamo anche raggiungere noi, vediamo. Volevano far fuori i corvi, ma il signore invece gli ha ridato la possibilità di andare avanti, che si è operato il papà. Eh ma quando gli hanno chiuso i punti mi si è lanciato una bestemmia. Lui no, smettela Federica, che il papà non bestemmia, smettela. Allora mi sarò sbagliato. Se sei sbagliato, ma non una volta, dici sempre, ma smettela eh. Lui è come il signore, può avestermi al signore, no. E lui è uguale. Eh ma sto papà bu. Il papà è bravo, è stato lo stomaco da più di uno ma. Ma secondo me perché ne sgancia? Il signore se l'ha dato, se vede che ci voleva. Ma che ne so bu, secondo me bu. Beh cambia di scopo. Ti ho detto che ti ci portavo eh, che tu puoi camminare. A mia mamma guarda un te bello. Eh? Ti ho detto o no che ti ci portavo? Oh è vero, hai ragione che corsa. È bella, la cannera brutta eh. Hai visto che bella? Eh. Questa è, ci credo, ci vanno tutte le settimane io quasi. È vero, no quasi. Eh, via, andiamo a salutarla. Sei contenta? Sì, ma di qui mi si sgancia mai. Aspetta, vai. Sto contenta Federica, vi andò a piangere. Eccola la ziziana eh. Ha detto è bella, ma tu ce l'ha voluta a mettere quella foto. Eh, quant'è bella. Guarda, c'è anche drillo. C'è anche drillo. Te ne chi c'è? Anche un sasso che ho scritto ciao. Sì già eh. Eh nonna Marie? Bella, è bella. Sta vicino al cuore suo. L'amava. Sette soglie all'uno, sette. Mertene, stronzo nucleare. Tu sei uno stronzo atomico. No. Oh cazzo. Ma è stato mai. Ma è rubato aria. Ma è il gioco nuovo. Rubato aria. Auguri. Che cazzo di cazzo. Auguri. Che puoi al borsaglio. Auguri. Ah, tu la fa qua. L'uno la fa di disperditi. Auguri un'altra volta. No, 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 no. C'è tutto. Ti guarda il bar. Non si accende più. Per me del Dio, scalzo. No, scalzo no però. Dai, scalzo no. Eh, scalzo no dai. Però c'ha ragione, era scalzo. Non ci ha smorzato lì che quello si accende più. Ma perché? E perché hai consumato il papire? Che è il? Il papire. Che hai consumato? Il papire. Mannaggia la cararettina a mano. No, la cararettina a mano sì ma. Auguri. Mannaggia, non è possibile. Eh? Fai la sede a me questo. Auguri Marco. Tanti auguri Marco. Auguri. Più forte. Auguri. Più forte. Ma voglio accostare. No, auguri amico mio. Ciao Marco. Fiamo la zucchettina di Halloween. Què? La zucchettina di Halloween. C'è adesso di Amazon. Ma la fiamo io e te insieme. Sì, io e te puoi mettere la candela nella bocca. Fiamo la zucchettina di Halloween. E lei ti dico io, cammina, non fai lo stupido. Fiamo la zucchettina. Ah, che seppia. Ma la famo o no? No. Perché? Perché no. Fiamo la zucchettina. Annaggia, che rispondo. No, non la fai. Sì, sì. Sì, sì. Per sentirti più bello, fatti un bel pennello. Vai, grande, Ale, via. Guarda che elegance. Con il petto in mezzo, pretele, il Charleston Valle, dai. Io sono andato il campo. No, andiamo per la Crazy Run. Però domani siamo pomeriggio liberi, quindi... No, non ci prega niente, non è la pate. Non è vero. Direi pure, è un battacchione. Ma come fai? Cioè, veramente? Ma tu sei proprio matto. Mattacchione. La Crazy Run, il gente... Ma che matto, ragazzi. Che matto, ragazzi. Però il busto lo puoi levare. Ha giocato col busto. Che fai, arzughe? Rilasciami via, ma quando mangio? Ma stai arzugà? Beh, bella, te che... Che sughe? Che sughe? Che sughe? Che sughe? Oh, no. Oh. Ricordo che se domenica ci volete incontrare, a Orvieto dovete venire. Vi lascio la mail per acquistare i biglietti di tutta la passeggiata e per incontrare me e nonno. Posti stanno finendo. Adesso sceglieremo gli attrezzi per portare alla Crazy Run, vero? Prima ci vorrà una scatola. Di che colore? Eh? Il colore del co***o. Oh, il colore del co***o è solo perché... Leveti. Sono due colore. Oh, provo a cazzare se non me ne vuoi. No, no, le minacce no. Ah, ma c'è lì, Giuliani. Ma c'è la roba da pesca. Dov'ho? Mio ho pesca lì. Ma ne levo la roba, no? Ma la roba da pesca a me serve. La levo, no? E che ci mettiamo? Mettici questo. No. Che mi vuole andare al forziere dei pirati? Dov'ho cazzo? Ma va a fare un culo. Ma va a me il piacere. Ma perché? Fammelo il tuo piacere. Una cassettina cucina ci mette tutto, no? Ma pesca di amianto, Dio. Dov'ho cazzo? Questa è di ferro. Guarda, pesca che sp***o. Porto via sta roba, ve. Sì, ma se non è... Guarda, mannaggia. La chichiclata. La porto, la porto, la porto. Stai tranquillo. Che vuoi lì, la porto? Se no, li lascio di lì, eh. Dov'ho? Pannaggia. Eh? Mamma mia che c'è Rosetta. Miau! 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 Che fai bene? Miau! Ma qui, la scena, la scena, la scena. Sta fuori? Eh, là, là giù. Ma tu già cercavi i filmini? Ma quei filmini? Dove te le f? Eh, te le f? Tu già stai cercando. Ma io non cerco niente. Che cerchi? Niente. Ma la zucchettina di Halloween. Beh! La zucchettina... Ma te sciacqua di coglioni. Ma la facciamo? Ma cammina, le... No, la facciamo. Sì, sì, fin da due anni. Fa zucca... Ma le f? 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 Aspetta, Dada, che vuoi? Che vuoi? Vuoi un martello? Una mazzetta? No, volevo... Rastofano mi serviva. Eh! Sto cazzo! Allora va a fanculo. No! Ma perché fai così? Che sei molto aggredita, eh? Aggredisci la gente con la tua... Mannaggia in crocestrada, ma è possibile che questo da sta...